dal targeting alle medical personas ne parliamo il 4 novembre insieme a bruno sfoglierini perché è importante seguire questo webinar intanto sgombriamo il campo non sarà una lezione di statistica applicata o di ricerche di mercato sarà dedicato ai manager ai responsabili della comunicazione del rapporto con la classe medica l'obiettivo del webinar è quello di presentare condividere un caso di studio concreto praticato su un target medico su una patologia specifica con dati reali è importante capire come per la classe dei clinici la classe dei medici si presta in modo particolare alla definizione di profili tipici quindi ogni medico nella sua attività si riconduce a un comportamento che si può in qualche modo classificare in diversi tipi se si adotta una comunicazione differenziata ecco che si entra in maggiore sintonia con il nostro referente con il medico stesso con il medico stesso